E' arrivato il momento del primo stop per il successivo step. Del resto che la Domeghi sia giorno di riposo non lo ha deciso, certo la premiata ditta indiani giovanini, ma non c'è dubbio che dopo l'ultima sgambatura di questa mattina, questa giornata in mezzo di riposo sia una buona occasione per tutto il rinnovato gruppo Maranto per riepilogare la lezione della settimana e il nuovo credo tattico che indiani vorrà vedere ad iniziare proprio dalla prossima. Visto che sono in programma due uscite, mercoledì e sabato, rispettivamente con Sandonato e Castiglionese, entrambe alle 17.30. Tra le curiosità di questa prima settimana, quella di vedere la preparazione a chilometro zero è sicuramente una soluzione utile, al tempo stesso dilettevole. Il campo Lebole è stato preparato alla perfezione, un plauso va fatto al custode giardiniere che in questa fase ha giocato un ruolo importantissimo. Giovanini indiani curano i particolari e questo primo passaggio rappresenta la pietra miliare per impostare una stagione dove c'è solo la coniugazione di un verbo che tutti vogliono sentire. Il resto toccherà poi al sergente di ferro al secolo, il preparatore atletico Maurizio Pecorari. In questa settimana i giocatori hanno conosciuto la sua cura che sicuramente non sarà piacevole in questa fase, ma è altrettanto utilissima per trovare presto la condizione utile per cominciare alla grande. Li chiamano dettagli, sono decisivi invece per non sbagliare le mosse successive.